Alleluia, Alleluia, Alleluia Ecco verrà il Signore, strapperà via il gioco della nostra schiavitù. Alleluia, Alleluia, Alleluia Che il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando, sedevano l'anche dei farisei maestri della legge, venuta da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore li faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della fola, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede disse, Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuto i loro ragionamenti, rispose, Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire? Ti sono perdonati i tuoi peccati? Oppure dire, alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, Dico a te, disse al paralitico, Alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio, pieni di temore, dicevano, Oggi abbiamo visto cose prodigiose. Parola del Signore Lode a Teo Cristo Cari fedeli, abbiamo appena sentito nel libro del profeta Isaia, Il profeta Isaia ha sentito come finiscono le profezie di Isaia con quelle lui ha consolato il suo popolo nella schiavitù in Babilonia. Così, il profeta annuncia che verrà la liberazione e il ritorno nella loro patria. Il profeta Isaia, già con parabole conosciute e con le cose verranno nel suo popolo, li sostiene e lui dice così Il deserto fiorirà I cecchi riacquisteranno la vita Le orecchie sorde si apriranno I mutti gioiranno Quello che il profeta Isaia vuole e quello che prega per suo popolo, fratelli e sorelle Dio vuole fare a ciascuno di noi Ciascuno di noi in qualche modo vuole essere forte Non aver paura Ciascuno di noi vuole che i cecchi riacquistano la vista, sia quella vista spirituale che fisica Ciascuno di noi vuole che le orecchie dei sordi si aprano Così ciascuno di noi vuole che i zoppi camminano Ma per poter farlo noi dobbiamo collaborare con Gesù Dobbiamo a Lui dare spazio nella nostra vita Permettendo a Lui di essere Lui al centro della nostra vita Ciascuno di noi deve avere più fiducia in Gesù Proprio quella fiducia Che ha avuto quel mallato dal Vangelo di oggi Insieme ai suoi amici Che per mezzo di un tettuccio di una casa l'hanno portato a Gesù Quando noi guardiamo il testo del Vangelo di Luca Noi vediamo che qui tutto si sta svolgendo in una casa L'Evangelista Luca non ci dice di chi è quella casa e nemmeno dove si trova Ma l'Evangelista Marco ci dice che quella casa si trova a Caffarnau Nella città dove ha vissuto Gesù Il messaggio principale che ci dà l'Evangelista Luca è il seguente A venire a Gesù A andare oltre tutti gli ostacoli Non importa come, nemmeno come sono questi ostacoli L'Evangelista poi cita che quattro persone hanno portato quell'uomo che era infermo L'hanno cercato di portarlo dinanzi a Gesù Se noi ci ricordiamo del Vangelo di secondo Giovanni Allora l'Apostolo Giovanni per Gesù dice che lui è la luce vera che illumina ogni uomo E poco dopo lui dice che per mezzo di lui abbiamo la grazia e la verità Allora possiamo guardare in maniera un po' diversa questa parte dell'Evangelo che ci porta a Luca Allora solo in Gesù abbiamo la grazia e la verità Allora fratelli e sorelle Ciascuno di noi dovrebbe essere questo uomo paralitico Questo malato Colui che ha bisogno della grazia divina Colui che ha bisogno di essere guarito da Gesù Luca ci descrive anche quattro amici che non potevano portare quel paralitico alla porta Ma l'hanno fatto passare dal tetto perché fuori c'era una folla enorme Dentro erano seduti farisei e dottori della legge Noi vediamo che proprio i farisei e questi dottori della legge Erano l'ostacolo per questo malato Questo paralitico possa venire a Gesù Coloro che hanno portato il malato Hanno potuto superare tutti gli ostacoli e portarlo dinanzi a Gesù E proprio per mezzo del tetto della casa Se oggi dovessimo cercare di fare qualcosa di simile Tutti avrebbero detto che siamo irresponsabili Che non siamo normali Che stiamo distruggendo il bene del prossimo A magari siamo anche malvagi Perché mentre tutti gli altri aspettano Noi vogliamo venire al primo posto Ma cosa è quello che ha sorpreso Gesù nella loro fede? Era solo il loro atto Cioè il fatto che hanno dedicato il tempo e lo sforzo Per portare quel malato sul tetto di casa O magari quello che loro sono arrangiati Bene come portare il malato Magari i fratelli e le loro fede Si presenta su qualcosa che dal di fuori non si vede È che quello che a noi è più facile nascondere Che lottare contro questo per raggiungere Gesù Questi quattro dovevano dentro di sé Vincere due paure per incontrarsi con Gesù Prima paura Che loro dovevano superare quelle regole umane Cioè cosa ci dirà qualcuno? Noi abbiamo bisogno di piacere agli altri Cioè tante decisioni noi prendiamo solo per piacere a qualcuno Non ci piace essere criticati dagli altri Essere sparlati dagli altri Così che ci sembra spesso più facile Lasciar stare che lottare fino alla vittoria Loro hanno superato questa paura Per loro non era importante cosa gli diranno i farisei Cosa gli diranno i dottori della legge Per loro l'unico scopo era arrivare fino a Gesù Perciò cari fedeli È necessario all'esempio di questi quattro Vincere questa paura che c'è in noi Un'altra paura è che sempre dubitiamo Di non poter farcela O magari di prendere qualche decisione sbagliata Ma fratelli essere le conviene rischiare per arrivare a Cristo Quando si tratta di Gesù Allora non esiste nessun ostacolo Nessun dubbio umano Che possa impedirmi A rivolgermi al mio Signore per aiuto Perciò cari fedeli Tutti noi abbiamo Dovere Ad aiutare i malati di oggi Abbiamo Dovere Aiutare i superare le difficoltà Che sono un ostacolo per arrivare fino a Gesù Il nostro desiderio può diventare Il desiderio del nostro prossimo per arrivare a Gesù Il nostro mondo comincerà a cambiare Anche oggi ci sono persone che sono ostacolo A tanti sulla via verso il Signore Noi cristiani non dobbiamo esserlo I nostri concittadini di oggi Possono essere ostacoli a arrivare fino a Gesù Ma questo possiamo superare solo Se siamo consapevoli Della situazione in cui ci troviamo E se con perseveranza Cerchiamo la guarigione Anche noi Come molato di oggi dal Vangelo Possiamo ammirare Gesù con la nostra fede E Gesù farà grandi opere d'amore A noi e al nostro prossimo Noi dobbiamo aiutare gli uni gli altri Perché tutti stiamo bene Che tutti stiamo grandi negli occhi del Signore Non dobbiamo essere indifferenti verso le persone Che offendono il Signore Tutti bisogna illuminare di Gesù Stipore anche coloro che l'hanno portato a Gesù Perciò fratelli e sorella Facciamo pure noi oggi questo Lo facciamo così che portiamo qualcuno a Gesù Che qualcuno facciamo diventare gioioso Che qualcuno magari malato al corpo e all'anima Ad aiutarlo a trovare Cristo E allora tutti saremo felici e contenti Il Signore ci aiuti che sia così Amen Preghiamo Signore Che con i meriti di Cristo ci liberati dal potere del peccato E diciamo tutti insieme Signore esautisci Signore Ispira gli uomini al pentimento E perdona a loro i peccati Ti preghiamo Signore Fa che tutti noi ti ringraziamo Perché tu ci perdoni i peccati Ti preghiamo Signore Fa che tutti provino Che tu gli sei vicino E che li ami tutti Ti preghiamo Signore Dadaci La forza nella lotta contro ogni male Ti preghiamo Signore Quando finisce la nostra storia Riempi le promesse del tuo amore Ti preghiamo Signore Signore Esaudisci le preghiere dei tuoi figli e dei tuoi amici Per Cristo nostro Signore Amen Signore 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 Grazie a tutti.